Mancano ancora molte ore all'inizio di Italia Albania, esordio della nostra nazionale agli europei qui in Germania e come vedete l'entusiasmo è già alle stelle nel cuore di Dortmund dove in netta maggioranza ci sono tifosi albanesi ci prevedono almeno 40.000 sostenitori della nazionale rossa contro i nostri giuri che saranno in 20.000 veramente un bel clima anche se non dal punto di vista meteorologico, però dal punto di vista dell'entusiasmo vedete tifosi festanti ma assolutamente pacifici in una sorta di verdi dice Forza Albania il nostro amico, diciamo Forza Italia, ma va bene così ricordiamo alle 21 Italia Albania, l'Italia rischiereà con la difesa a 4, giocherà Calafiori Barella recuperato dal primo minuto, Spalletti che non hanno sposto l'emozione e questo è tutto da Dortmund